Oggi la formica è fondamentale per la raccolta differenziata in tutta Rimini, centro storico ma anche con le attività turistiche estive e quindi con gli alberghi e con i bagni e ha visto e ha accompagnato lo sviluppo della raccolta differenziata a Rimini che negli ultimi 5 anni è passata dal 25% a oltre il 50%, quindi per noi è un partner fondamentale, un partner fondamentale che si è anche migliorato nel tempo ovviamente anche dal punto di vista della preparazione del personale e dei mezzi, per esempio per il centro storico hanno acquistato mezzi che funzionano a metano e quindi con un minore impatto ambientale. Svolgiamo un servizio delicato in una città che ha molta attenzione ai temi della raccolta differenziata, dell'ambiente, del servizio, della qualità, pensiamo alla stagionalità in cui la cooperativa formica poi moltiplica le sue forze per far fronte all'ondata dei turisti. La formica è uno dei nostri principali fornitori di prestazioni e soprattutto di servizi, siamo venuti in contatti con la formica tramite il consorzio sociale romagnolo, il consorzio che associa le cooperative sociali della provincia di Rimini, è come dicevo uno dei fornitori più importanti che abbiamo, siamo molto contenti del servizio che ci svolge la formica in quanto mette insieme due aspetti molto importanti, di fianco un'allevata professionalità nelle attività che svolge una funzione sociale che permette l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate che avrebbero difficoltà altrimenti entrare nel mercato del lavoro. Il Comune di Rimini ha un rapporto con la cooperativa da diversi anni, infatti dal 2004 svolgono per il servizio a fissioni appunto la fissione materiale dei manifesti. Il rapporto direi che è più che buono nel senso che anche quando ci sono state delle criticità, delle questioni insomma che andavano risolte, sono state sempre risolte con grande solerzia. Conosco sin da quando eravamo ragazzini, Pietro Borghini il precedente, eravamo negli scout insieme per cui ci riga un'amicizia lunga tantissimi anni, per molti anni ci siamo persi, ci siamo rincontrati quando io sono diventato assessore nel Comune di Rizzone, quindi la scorsa legislatura e lui era già precedente della cooperativa Formica. E la cosa che devo dire che più di tutto mi ha colpito è quell'impronta che è riuscita a dare nel mondo della cooperazione sociale che è la professionalità, quindi ha applicato la cooperazione sociale non un'impresa fatta per fasce deboli, quindi in quanto fatta per fasce deboli di qualità inferiore, ma ha cercato di coniugare il fatto che si è fatta per offrire, dare un'opportunità di lavoro a persone che farebbero fatica a trovare inserimenti lavorativi da altre parti, ma questo non doveva andare a discapito della qualità. È stata una delle prime cooperative a nascere qua sul territorio, sono venute da noi per l'acquisto di mezzi, quindi è stato un incontro fra cliente e fornitore, poi piano piano col tempo si è evoluto, è diventato qualcosa di un pochino più agglomerato, un pochino più importante. Da quando è nato il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, la cooperativa ha sostituito in totale quello che era più o meno 20-25 anni fa il privato nel nostro settore, quindi non esiste più il privato, ma ci sono tutte queste cooperative e quindi abbiamo iniziato un nuovo percorso con questi clienti e devo dire che la cosa che più ci ha impressionato e che mi ha impressionato anche personalmente è il fatto che ci sono tanti giovani che hanno voglia di fare, che sacrificano una buona parte della loro esistenza per dedicarsi totalmente a quello che è il rapporto umano e sociale. Quindi in alcuni casi vengono viste anche in malo modo queste cooperative perché vanno un attimino a rubare fra virgolette quello che è un lavoro che potrebbe fare una ditta privata, però bisogna anche valutare il fatto che oltre a prendere questo lavoro questi riescono ad inserire nell'inserto sociale un nucleo di persone che difficilmente potrebbero fare qualcosa per conto loro. La Formica è una nostra associata sin dalla sua costituzione ed è per noi come organizzazione un modello di impresa importante e soprattutto che ha una peculiarità che è quella che nel sociale opera in un settore, quello delle cooperative B, il settore dove vi è appunto un inserimento sociale di queste persone svantaggiate ed è una piacevole realtà se vogliamo, molto organizzata ed è un modello di struttura cooperativa sulla quale noi come Conf Cooperative ne siamo fieri. in questi anni si è sempre consolidata e si è soprattutto sviluppata sul territorio provinciale in maniera positiva, non solo a livello di dati economici ma soprattutto a livello anche di occupazione che è in questo momento una delle maggiori preoccupazioni, la disoccupazione che abbiamo nel nostro paese. Io ho avuto occasione di incontrare varie cooperative sociali, fra cui in particolare la Formica e fra cui in particolare il Presidente Pietro Borghini, ho avuto questa occasione sia come Presidente di Confindustria di Rimini, sia come Presidente di Eticredito, una banca con finalità particolari e come Presidente di Confindustria ho apprezzato in modo particolare l'abbinamento all'interno di varie cooperative sociali, in particolare della Formica, l'abbinamento tra obiettivi di tipo sociale naturalmente molto chiari, fra l'altro l'obiettivo fondamentale è quello dell'inserimento lavorativo di persone con disabilità e difficoltà, quindi molto vicino anche alle imprese e quindi crea rapporti diretti con le imprese questo. Dicevo l'abbinamento di questo obiettivo sociale molto importante con un'efficienza organizzativa che anche dal punto di vista di Confindustria delle imprese è molto apprezzabile, cioè la Formica come altre cooperative sociali si muovono nel mercato e quindi devono guardare, oltre all'obiettivo specificamente sociale, un'efficienza organizzativa che le faccia essere anche competitivi in questo servizio che danno. Come Presidente di Eticredito ho avuto anche qui in questo caso dei rapporti diretti con la Formica e in particolare con Pietro Borghini. Rapporti nei due sensi, sia per il rapporto di credito che abbiamo avuto come Eticredito nei riguardi della sede ad esempio di Via Portogallo in cui abbiamo contribuito con il nostro finanziamento all'insediamento di un impianto di fotovoltaico, oppure contribuiamo anche al normale credito che consente di lavorare alla Formica come altre cooperative sociali. Dall'altra parte però c'è stato anche un apporto che noi apprezziamo molto come Eticredito inverso, cioè costruttivo e fattivo da parte delle cooperative sociali, in particolare con la presenza del Presidente Borghini all'interno del Consiglio di Amministrazione di Eticredito che in questo senso ha portato un apporto e una spinta molto positivi perché Eticredito si interessa di particolari sentimenti di mercato all'interno del credito, come è il microcredito, come è l'incentivo alle energie sostenibili, al fotovoltaico, come è il rapporto in particolare con la cooperazione sociale su cui ci sentiamo particolarmente portati, è un nostro obiettivo strategico e su cui ci sentiamo anche specializzati. Borghini ha dato un rapporto fondamentale nel creare questa specializzazione di Eticredito verso la cooperazione sociale. Io ho incontrato la Formica perché ho fatto per dieci anni l'assessore ai servizi sociali del Comune di Rimini e quindi è stato un incontro legato proprio ai problemi della città, quando ci ponevamo l'obiettivo di far sì che le persone che incontravamo rientrassero a testa alta in società. Quindi non più la carità, ma trasformare la carità in dignità umana, cioè quindi dare alle persone che incontriamo, che incontravamo una dignità. La Formica è stato un piacevole incontro da questo punto di vista. Primo perché davvero ha scommesso e scommette tuttora su delle persone che magari su cui scommetterebbero in pochi. e fa di questo anche un motivo proprio di, non di vanto, ma di core business, cioè di professionalità. Cioè io voglio fare questo, cioè io voglio far sì che attraverso il lavoro che io faccio ci siano delle persone che riprendono dignità all'interno del territorio. Ha cercato anche di raggiungere un altro traguardo, quello di fare anche della professionalità e quindi della capacità di creare anche un ottimo lavoro, cioè quindi anche un ottimo servizio, anche un'altra sua caratteristica, quindi che però viene raggiunta con una percentuale di persone che abbiamo detto prima, cioè quindi sulle quali è difficile scommettere. Questo davvero per me è l'esempio concreto di cosa vuol dire costruire una città santa. Cioè scommettere davvero, dare la possibilità a ognuno di rientrare dalla porta principale, di crearsi una propria dignità, di non essere un emarginato, di non essere un escluso e di capire quanto è importante lui per la società. Ma la cosa più importante è far capire alla società quanto è importante quella persona. Questo tipo di cooperazione ha fatto in modo che non ci fossero dei ghetti dove mandare gli svantaggiati a lavorare, persone con dei disturbi, ma ha fatto sì che davvero diventasse un luogo di lavoro a 360 gradi. E quindi a questo punto c'è bisogno di tutti e tutti ambiscono a partecipare a quel progetto perché ognuno può trovare il suo spazio. E credo che anche questo, al di là del tempo che stiamo vivendo in cui c'è un disperato bisogno di lavoro da parte di tutti, credo che anche questo sia un segnale importante. Cioè capire che quello è un luogo importante, cioè un luogo in cui comunque posso mettere a disposizione le mie capacità sia che sia un laureato, sia che abbia fatto determinati studi, sia che sia una persona con un trascorso, con un passato tragico. E questo, anche questo, è un segno positivo di quanto bene ha fatto questa cooperativa nel territorio. I ragazzi sono veramente in gamba, passano da noi quasi tutti i giorni ovviamente, c'è una grande collaborazione comunque, noi siamo soddisfatti. Penso che sia una buona opportunità per loro, ma anche per noi comunque, momentaneamente anzi abbiamo proprio tutti i giorni contatto con loro, quindi ormai fanno parte del nostro quotidiano ed è giusto che sia così. Comunque c'è una selezione e una precisione e per me è abbastanza nuovo come servizio. Per me è molto efficiente, anche quando c'è stato un mancato passaggio tipo neve, comunque abbiamo tollerato, cioè ci si viene un po' incontro, però dopo due giorni sono... subito intervenuti nel ritiro della merce. Sono molto educati, molto disponibili anche, aiutano anche se dovessimo avere anche dei grandi imballaggi. No, 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 non trovo nessuno, anzi si fa fatica a trovare professionalità di solito in questi tempi. Ci sono persone che sono responsabili in gamba, che fanno il loro lavoro non solo per lo stipendio, ma perché effettivamente si rendono conto che è un'utilità per la città. Quando il problema non è grossissimo, lavorano meglio loro degli altri. È sicuramente un servizio positivo perché a noi serve, noi abbiamo tanta, tanta carta. Grazie al cielo abbiamo un numero di cellulare che ci è stato fornito, quindi conseguentemente chiamiamo e nel limite del possibile, a breve o entro la giornata o al massimo la giornata dopo, passano. Adesso è tornato il nostro signore, il domino nostro che ci segue, quindi abbiamo con lui un rapporto, passa tutti i giorni. È indispensabile perché tutti i giorni abbiamo una moltitudine di cartoni da smaltire e loro sono sempre pronti, abbiamo i nostri orari che passano e sistemiamo i cartoni dentro un negozio e vengono dentro a ritirarli. Sono molto educati, il personale è veramente qualificato, è capitato qualche volta che abbiamo avuto qualche problema, però appena telefoniamo naturalmente viene sistemato, sono veramente eccellenti. Siamo stati fortunati, diciamo, qui nel centro storico, di aver avuto questa cooperativa. non abbiamo avuto altri, quindi non abbiamo un metro che possiamo, però sinceramente il centro storico è da quel lato lì, con questo servizio è veramente andato molto molto bene.